Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo il clamoroso retroscena di Bisignani. Giuseppe Conte sarebbe rimasto chiuso in un salottino per far finta di aver litigato con Mario Draghi. Che cosa, che cosa? Vediamo questo retroscena di Bisignani. Di solito i retroscena non sono le indiscrezioni. Allora, i giornali hanno sempre retroscena e indiscrezioni. Sono sempre degli spioni che dai palazzi, spesso sono sottosegretari, ministri, viceministri, portaborse, che ascoltano e corrono a chiamare il giornale X per dare la notizia. Ovviamente io credo in cambio di qualche 100 euro, 100, 150, 200 euro, non so. Ci deve essere una convenienza, sennò che senso avrebbe, no? Che senso avrebbe fare una cosa che poi rimane anonima? Vabbè, questo credo che prima o poi lo scoprirò. Il titolo di un giornale era Se questo è un leader, rivolto a Giuseppe Conte. Da poco a capo, dice un giornale, della sgangherata e improbabile pattuglia grillina. Il retroscena arriva da Luigi Bisignani su Il Tempo di oggi, o meglio di ieri, domenica 1 di agosto. C'è stato un incontro la settimana scorsa tra Conte e Mario Draghi, a Palazzo Chigi, per trovare una mediazione sulla riforma della giustizia. Nel suo intervento su Il Tempo, Bisignani scrive Strombazzato da media e social, era in agenda il primo faccia a faccia tra Super Mario e Giuseppe, il quale rimetteva finalmente piede in quelle stanze e in quei corridoi sui quali per mesi le telecamere dei TG lo hanno ripreso mentre camminava, ricordate, tra un salotto e l'altro, questi palazzi antichi, lui camminava, il Giuseppe Nazionale. Dunque l'uomo che sussurrava ai potenti sottolinea I giornali hanno riportato che, per sembrare riservato, il Premier defenestrato è entrato dal portone secondario. Varcata la soglia, il piglio azzimato e sicuro di sempre è pomposamente tornato a galla, sconfiandosi tuttavia subito dopo aver registrato che il Premier in carica gli aveva dato udienza, come confermano i testimoni, per appena 15 minuti. Come dire? Parla? Dì? No? 15 minuti. Udienza per 15 minuti. Vabbè. Al contrario di quanto raccontato dalle cronache grilline, l'ex avvocato degli italiani non ha affatto sbattuto i pugni sul tavolo, no? Su quello ci avevo scommesso. Ma ha dato subito il suo appoggio, come peraltro confermato dai fatti, alla riforma Cartabia. Beh, peccato che il meglio debba ancora venire. A questo meglio ce l'offre ancora Bisignani. Ma qui, il colpo di teatro, il cube de théâtre, frutto, sembra, di una trovata geniale di Rocco Casalino. Rocco Casalino, non te la prendere con me, è Bisignani sul tempo, visto che Rocco Casalino ha la denuncia facile, no? È diventato un po' come Renzi Rocco Casalino. Quando gli dicono mezza cosa, lui denuncia. Però, insomma, questa è, io sto riportando una cosa uscita su Il Tempo, con un'indiscrezione di Bisignani. Quindi, la trovata ingegnosa di Rocco Casalino, quale sarebbe stata? Pare abbia chiesto sommessamente, che è rimasto basito, se poteva usufruire di un salottino riservato per fare delle telefonate urgenti. Quindi, prima di uscire, Conte, dopo 15 minuti, dice, senta, Presidente del Consiglio, non è che c'è una stanzetta, un attimo, che devo fare delle telefonate urgenti? Perché le telefonate urgenti non te le puoi fare anche quando esci? Vabbè, voi quando dovete fare una telefonata urgente chiedete un salottino riservato. Anche Bisignani ammette che no, probabilmente non sapremo mai chi abbia chiamato, forse non ha chiamato nessuno. Probabilmente era tutta una trovata, una farsa ideata da Rocco Casalino, tanto che, dice Bisignani, più che stare al telefono, sembra abbia solo camminato per la stanza, riavvolgendo il nastro dei suoi ricordi, quando gli italiani aspettavano per ore lui e i suoi incomprensibili di PCM. Pare che in quel salottino sia stato solo uno stratagemma per allungare i minuti del breve incontro con Super Mario, per far credere che ci sia stato uno scontro, che Conte abbia tenuto testa al Premier, quando in verità subito ha ceduto. Signor sì, Presidente, noi siamo con lei, sempre e comunque. Viva il Presidente, un grande Presidente. No, non ha detto così, però probabilmente, da quello che dice Bisignani, qualcuno nel palazzo avrà parlato, qualcuno di quelli che lavorano a Palazzo Gigi, no? A Palazzo Chigi avrà chiamato il giornale, dice, guarda, ti devo dire questa cosa qua, è rimasto lì per non so quanto tempo, in un salottino. Ecco, probabilmente il Giuseppe è rimasto lì, ha fatto passare un po' di tempo per poi uscire con i giornalisti e dire, beh, dopo due ore di colloquio siamo arrivati a un accorto. Invece quello gli aveva detto, te, 15 minuti e andare, pedalare, che devo lavorare. E beh, insomma, anche Draghi se non c'era bisognava inventarlo, eh. Se non c'era bisognava inventarlo. A molti di voi non piace, giusto per partito preso. Dice, bisogna criticare per forza chi c'è al governo, bisogna criticare sempre tutti, tutto e tutti. C'è una parte di voi che a prescindere deve criticare. Mostro, mostro, ma, bah, il mondo è bello perché è vario. Qualcuno dice è bello perché ha variato, no? È bello perché è vario, direi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Era un po' che non dicevo, l'iscrizione è gratuita. Sono quelle frasi automatiche che dopo ti vengono fuori così. Vabbè, siamo anche su Teleitalia Seconda Rete, qui su YouTube, e su Teleitalia su Facebook, dove trovate questi video dopo qualche ora condivisi, in modo che li possiate condividere anche voi, con chi volete, su Facebook. Grazie a tutti, ricordatevi che nella community ci sono tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.